qua c'è il mio tablet con il capitano ho visto meglio i romani adesso ho fatto a pizza non so se quasi quasi ce ne metto due ma questa è la pizza proteggo alexa paula proteggo ho imparato una cosa proteggo l'affettato che comunque è più sensibile al calore con il formaggio che lo è meno fa diciamo una una cappa di protezione che che aiuta e si aiuta proprio